andata allora buongiorno oggi è lunedì 27 aprile io sono anna barbari che sono in compagnia di laura lapi allora la prima cosa che ti voglio chiedere appunto di presentarti quindi di dire dove sei nata quando il comune di residenza e qual è la sua occupazione ad oggi ok allora sono laura sono nata nel comune di bagno a ripoli il 25 ottobre del 1995 e la mia occupazione mi hai detto e mi sono laureata quattro giorni fa quindi per il momento disoccupata poi in questa situazione insomma ancora è difficilissimo trovare un qualcosa quindi per il momento sono in stand by diciamo quindi allora dato che già me l'hai detto passerei a una domanda che alla fine è il nucleo di quello che è questa intervista dove volevo arrivare che è come ti sei trovata a dover fare una laurea in via telematica perché immagino che ti eri sognato diciamo quel momento in un determinato modo esatto poi è cambiato tutto magari stavi già cercando il vestito adatto e tutto quello che poteva essere per rendere giusto quel momento e ti è stato detto che doveva essere un altro modo quindi magari come è stato doverti rapportare con il tuo professore per correggere ancora quella che era la tesi come è stato quel giorno lì in partirà il giorno che ti sei laureata perché ti sei laureata anche se non nel modo in cui volevi però c'è stato il giorno certo allora inizialmente sono sincera avrei voluto rimandare avrei voluto rimandare perché non era così che me lo aspettavo avrei sicuramente voluto una discussione normale una festa normale avrei voluto gli amici avrei voluto i parenti avrei voluto coriandoli quindi dopo tanto sacrificio e tanti anni insomma ad aspettare questo giorno all'inizio veramente mi era preso proprio lo sconforto e avrei voluto rimandare poi sia per una questione economica sia perché non sapevo se le sessioni poi future non so tuttora come si svolgeranno allora ho deciso di lavorare sicuramente non è stato semplice perché un conto anche per la correzione dei capitoli per fare delle domande per cercare anche il materiale stesso io non ho potuto fare altrimenti quindi ho fatto in videochiamata con il professore io scrivevo capitoli lui me li correggeva e facevamo delle videochiamate per farmi vedere dove erano degli errori quello che dovevo correggere come lo dovevo correggere perché lo dovevo correggere per quanto riguarda il materiale ho dovuto fare con quello che avevo non ho potuto cercare libri non ho potuto andare in biblioteca o farmi prestare magari anche dal professore stesso degli altri libri perché non c'era non c'è stata la possibilità quindi ho dovuto fare con quello che avevo ho cercato magari su internet per ampliare su qualche sito insomma qualche documento però poi appunto mi sono dovuta accontentare anche appunto nelle correzioni non è stato semplice perché un conto essere di presenza con il professore poter parlare a lui direttamente liberamente insomma di quello che uno magari vuol fare come lo vuol fare di come deve correggere un conto e doverlo fare in videochiamata e avere anche a disposizione un tempo limitato perché giustamente il professore si doveva organizzare con le lezioni con altri ricevimenti con le mail e quindi non è stato facile e per quanto riguarda poi il giorno proprio della della laurea è stato abbastanza strano perché non c'era appunto nessuno se non i miei genitori e mio fratello e ci siamo collegati con la presidentessa del corso e con gli altri professori con gli altri candidati noi eravamo sei e avevamo insomma l'orario in cui collegarsi che era venti minuti prima dell'inizio della discussione ufficiale dopodiché a giro abbiamo iniziato con la prima persona avevamo 15 minuti per uno e non di più quindi il professore diciamo il relatore introduceva il discorso il candidato poi spiegava in generale quello che aveva fatto dopodiché c'erano alcune domande o da parte del relatore o dal parte del professore però tutto in massimo 15 minuti poi abbiamo discusso tutti in questa modalità dopodiché alla fine abbiamo ci hanno fatto disconnettere abbiamo aspettato mezz'ora forse un po di più 40 45 minuti ci hanno dato un orario dove ci siamo riconnesti e le hanno fatto la proclamazione diciamo con come la fanno nelle sessioni normali naturalmente non è la solita cosa perché non puoi ringraziare non puoi stringere la mano il voto viene mandato prima tramite email quindi sai già quando si proclamano in realtà il voto che hai preso e non lo scopri lì per lì ma lo sai perché devi accettarlo e e quindi diciamo che l'emozione non è è sicuramente un bel momento è un momento che naturalmente ricorderò perché è stato totalmente strano però non è non ha la solita cosa delle lauree magari a cui ho assistito delle mie amiche non non ha niente diciamo a che vedere purtroppo sì perché comunque sia avendoti detto il voto prima togli un momento noi dell'attesa perché sai già quindi ti proclamano sì ok è il momento è lo tuo però non hai l'attesa di dire chissà come sono andata perché comunque sia hai già ricevuto prima sì lo sai già e quindi quando loro comunque stati proclamano tu sai già il voto che hai preso cioè non c'è quella quella sospanza e quella attesa e poi dopo che comunque sia abbiamo finito abbiamo chiuso e ringraziato abbiamo chiuso la chiamata non c'è nessuno lì che ti aspetta con magari non lo so con i coriandoli o con insomma con niente perché chiudi il computer e finisce cioè basta non puoi fare un brinde sì sì certo io l'ho fatto la mia mamma con il mio papà ma finisce lì abbiamo fatto anche non so delle foto tra di noi però sicuramente il ricordo è quel giorno di quel giorno con gli zii con i parenti con gli amici le foto tutti insieme io non l'avrò magari l'avrò spero in un secondo momento quando cercherò di recuperare diciamo questo insomma questa cosa facendo delle foto appunto con le persone più care però il momento proprio del giorno non non potrà mai ritornare naturalmente ma non lo so speri ci sia la possibilità di una proclamazione anche dopo nel senso quando questo periodo sarà finito se ti venisse data la possibilità di rifarlo cioè magari di andare in aula nell'aula magna e di essere programmata con un tot magari numero di persone sarebbe allora sicuramente se ci fosse questa opportunità io sarei felicissima ma per il semplice motivo appunto che anche se naturalmente non è che ogni candidato potrà portare con sé non lo so venti persone per uno però anche già se ci fosse la possibilità di portare non so un piccolo numero di persone di avere insomma la programmazione anche in presenza dei professori sì a me ma penso un po' a tutti farebbe molto piacere ecco quello sì assolutamente ok quindi te mi hai detto che alla fine che a casa sei con mamma babbo e fratello c'è anche lui che sta vivendo questa situazione di un'istruzione telematica dove te mi hai detto anche alle quattro e mezzo ha una lezione esatto sono poste in maniera totalmente diversa cioè non ha anche lui un orario stabilito non è che dalle nove a luna fa lezione no allora praticamente lui hanno tipo un programma giornaliero perché naturalmente i professori non possono fare come a scuola normale ad esempio c'erano due ore di italiano in questo caso no cioè un professore può avere un'ora durante il giorno e non è che tutti i giorni hanno italiano 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 devono darsi come dire dei limiti perché poi il professore naturalmente mio fratello ad esempio è in quarta però i più professori hanno diverse classe quindi si devono organizzare in base anche a questo quindi sicuramente magari la lezione di italiano durante la settimana può capitare non so due volte più una volta quella di storia e magari una volta quella di fisica poi il suo è un liceo linguistico quindi le lingue cercano di farlo un pochino più spesso se magari non lo so italiano si fa due volte inglese cercano di farlo sì tre volte sempre due volte il russo e lui ha scelto come terza lingua magari lo fa una volta quindi ecco cercano di organizzarsi un po così però non ha una tutti i giorni tutti i giorni diciamo non è che ha una cosa fissa nel senso il lunedì va dalle nove alle una oppure il martedì dalle nove alle due no magari che ne so il lunedì va dalle dieci fino alle una il martedì va dalle nove alle undici e poi magari riprendere il pomeriggio con un'ora per esempio quindi non non c'è una cosa fissa ed è molto difficile perché devono fare compiti interrogazioni tutto a livello insomma telematico l'interrogazione alla fine è un po più semplice perché la professoressa da da studiare una determinata cosa per non lo so fa quanto il martedì e il martedì poi viene interrogato sempre con la professoressa insomma lui e magari un'altra persona il problema è per i compiti scritti perché i compiti scritti non non sono fattibili a volte li danno da fare magari li danno da fare qualche testo o qualche cosa però non certo cioè anche sì risponderà delle domande però naturalmente non è semplice per i professori valutarlo perché non sanno come lo stanno svolgendo è esatto mentre l'interrogazione comunque sia la professoressa è collegata quindi a modo di vedere la preparazione diciamo quello sì e invece il resto della giornata come cioè come l'ho passata in questa situazione come è che la stai vivendo alla fine hai avuto un periodo in cui ok la mente è stata occupata per te dal dall'attesimi dal preparare quello da preparare il discorso da viverti anche quel giorno magari il tuo fratello invece ha una parte della giornata in cui la mente è impegnata la scuola a scuola il resto della giornata cioè come lo vivete non lo so come se vi organizzate dire un giorno va a fare la spesa una persona un giorno va un'altra cioè come la vivete questa situazione? allora in casa diciamo che per fare la spesa esce la mamma noi io e mio fratello non usciamo e siamo veramente dal 9 di marzo chiusi e non abbiamo visto nessuno non siamo usciti neanche 200 metri vicino da casa e cerchiamo di lui gioca con gli amici alla playstation si sentono con le cuffie quindi insomma si sentono in questa maniera facciamo delle videochiamate cuciniamo facciamo dei dolci la pizza abbiamo fatto di tutto e io uguale magari faccio delle videochiamate posso guardare un film leggo un libro a volte mi annoio terribilmente purtroppo in questa maniera cerchiamo di passare il tempo magari anche facendo pulizie non so inventandoci quello che ci viene sul momento è sicuramente a volte inevitabile annoiarsi perché dopo un po' dopo tanti giorni oggi sono 50 giorni che siamo in casa è inevitabile che non sempre ci viene qualcosa da fare sicuramente a volte siamo anche molto scoraggiati perché non sembra che non ci sia mai una fine a questa cosa e quindi ci sono dei giorni anche appunto di grande sconforto dove magari stiamo non so distesi sul divano e non ci alziamo per tutto il giorno e poi il giorno dopo va meglio e quindi siamo più attivi e davvero magari cuciniamo dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 6 ecco però non è facile comunque insomma le cose diciamo da fare purtroppo non è che sono tantissime ecco te mi hai detto no adesso che ci sono momenti di noia momenti di noia portano a pensare uno pensa quando è che arriva la fine di tutto no ma invece quando c'è stato l'inizio no la prima volta che hai sentito parlare del coronavirus la prima volta che è stato detto fermi tutti siamo tutta a casa è tutto chiuso cioè cosa è che hai pensato cos'è che vi siete detti comunque sia in casa iniziamo una convivenza alla fine forzata perché siamo abituati a uscire a vederci sì ok perché la nostra famiglia quindi la vediamo però non la vediamo 24 ore al giorno per due mesi assolutamente allora all'inizio sinceramente l'abbiamo abbiamo capito la situazione e ci è sembrato giusto anche questa questa limitazione perché era l'unico modo per fermare il contagio quindi abbiamo capito e rispettato le regole e le stiamo comunque sia rispettando tuttora il problema è che tutte le volte che magari dicevano il 3 aprile è la fine di questo decreto e poi ce n'è un altro e poi ce n'è un altro tutte le volte abbiamo sperato di poter fare delle veramente delle piccole cose cioè da una passeggiata al salutare un amico e non ci è mai stato concesso quindi all'inizio avevamo preso tutto con grande positività alla fine sapevamo che era l'unico modo per salvare delle vite e che tutti dovevamo fare la nostra parte dopo 50 giorni sono sincera non è non è facile perché ad esempio mio fratello ha 17 anni e chi è che ha 17 anni è stato 50 giorni in casa senza vedere un amico non è già non è mai successo ma anche io che alla fine ne ho 24 non cioè non è non è semplice perché poi uno non è che non lo accetta lo capisce e capisce la gravità della situazione capisce tutto però veramente non poter fare neanche due passi una passeggiata con queste poi belle giornate che ci sono state non poter vedere una persona farci due parole al momento è davvero molto molto difficile però sappiamo che per ora insomma fino al 4 maggio ci sarà questo questo blocco totale alla fine abbiamo fatto tanto quindi una settimana in più non cambia niente dal 4 purtroppo cambierà realmente poco però sicuramente durante le belle giornate anche singolarmente ma insomma fuori un po' a camminare almeno o in bicicletta insomma qualche cosa cercheremo di fare perché psicologicamente non è sta diventando abbastanza difficile adesso sì comunque sia senti tutte le mancanze no tutte le cose che avevi che avevi prima anche da importanza alle piccole cose no al caffè al bar certo alla pizza al sabato al caffè al bar all'aperitivo non lo so alla domenica a tutto a tutto quanto uno capisce realmente che cosa che privilegio abbiamo a essere così liberi perché la libertà penso sia fondamentale tante cose che prima davamo sicuramente per scontato perché dicevamo ah vabbè se si va al bar a prendere il caffè magari che noia perché il bar era sotto casa però ora capisci che non è scontato e che da un momento all'altro ce l'hanno ci hanno privato di questo e quindi anche accettarlo non è semplice assolutamente ok allora io non ho altre domande se te vuoi dire qualsiasi cosa se magari pensavi mentre magari facevo domande oppure qualcosa che volevi dire che io non ti ho chiesto liberissima di dire quello che vuoi spero solo che questa situazione possa finire il prima possibile o se proprio non finire perché insomma finire è un termine abbastanza grande ma che un minimo possa tornare una piccola normalità perché penso che ora ce ne sia abbastanza bisogno sì esatto ok allora io ti ringrazio tanto a te grazie ciao ciao